ciao a tutti io sono francesca e oggi comincio così questo vlog allora dove cominciarlo prima ma mi sono svegliata tardi adesso devo andare a fare una visita con mio figlio sono andata dalla parrucchiera e ho tagliato i capelli ho fatto anche un po di mesh ci becchiamo dopo allora continuo così il vlog vabbè oggi è 15 settembre io sono andata a pranzare c'è a pranzare ho preso un po di vaso in un bar perché praticamente sono uscita dalla visita mezzogiorno e un quarto così e mio figlio di solito a mezzogiorno mangia quindi sono arrivata da mangiare al bar adesso vado in macchina che la devo cambiare perché è ora di cambiarla e basta ormai sono arrivata in macchina e poi dopodichè vado a casa di mia suocera e decoro e vediamo come come viene la cosa allora ho fatto tutto ho cambiato mio figlio ho anche buttato via il pannolino che qua fuori c'è il virone e niente adesso andiamo la mia suocera questo è come ho decorato la sala basso lì allora adesso devo andare a prendere la torta sono le 4 e 23 e dovevo andarci alle 3 però vabbè dai tanto comunque è lì per coppia quindi è sempre aperta e adesso vado adesso vi faccio vedere la torta che ho preso non mi dico quanto l'ho pagata la faccio vedere alla rovescia adesso giro adesso vado la mia suocera così non si scioglie la torta comunque nei lati è così è molto molto carina eccoci qua sono le 11 e 14 di sera stiamo andando a casa adesso siamo montati in macchina e allora questo vlog sicuramente lo continuerò domani perché domani probabilmente andiamo a vedere un posto sicuramente andiamo a vedere un posto però sono indecisa tra il museo ferrari oppure un altro borgo che però non è qua vicino ok quindi sono quasi due ore di macchina però dipende tutto domattina perché domattina dobbiamo andare a vedere se dobbiamo voglio andare a vedere una sala in pratica sono indecisa tra due sale per festeggiare il complejo di mia figlia che vabbè una sala che ho visto poche volte che sarebbe questa qui di domattina più la sala invece dove ha fatto il battesimo insomma domani dobbiamo decidere e quindi vediamo ma anche soprattutto in base al prezzo e quindi tutto dipende da quanto ci mettiamo a vedere questa sala perché se devo andare a vedere un borgo e partire il pomeriggio famigliore di macchina non ha molto senso quindi insomma vediamo in quel caso lo porto a vedere il museo ferrari vabbè comunque adesso io parto e poi noi ci becchiamo alla prossima clip allora io mi sono fatta sto caffè solubile sabato macchina e mi sa che andiamo a vedere il museo della ferrari questa è la torta fake che gli ho fatto di americano sempre un ricordo che ho fatto io gli faccio le facce delle ricerche sono queste questi che nessuno mangerà credo questi qui sono Coca Cola alla vaniglia questo qui forse è meglio metterlo in frigorifero Dr Pepper sono queste cose qua queste sono buonissime allora siamo cioè stiamo per entrare in autoville comunque mancano ancora 70 km e quindi arriveremo sulle 3 comunque chiude le 7 quindi va bene no? come cosa? vabbè adesso andiamo a mangiare qualcosa perché non ho neanche fatto colazione cioè ho bevuto due caffè e basta ah comunque il mio compagno è ancora ignaro di tutto ho guidato io fino adesso quindi andiamo allora abbiamo mangiato e adesso procediamo verso l'itinerario ci becchiamo dopo grazie a tutti 桜 Grazie a tutti. 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 Ci vediamo al prossimo video. Ciao.